seconda carta verde o rossa sottostante motivazioni livelli guarda la seconda carta ancora una carta verde sul sull'euro dollaro quindi torniamo sempre sul classico sul nostro cavallo di battaglia si può vedere dal grafico che comunque anche anche il cambio ha difficoltà a superare un range di prezzo che secondo me individuabile tra l'1,2250 e l'1,2190 circa continua ad avere appunto difficoltà continua a rimanere all'interno di questo range quello che potrebbe dare tra virgolette una lieve garanzia di una continuazione del trend è questo supporto che sta accompagnando comunque il cambio già già da inizio già da inizio aprile credo che potrà continuare la risalita ancora spazio per salire secondo me almeno al target di 1,2350 che tra l'altro combacia proprio col massimo di inizio gennaio quindi è probabile un ulteriore un ulteriore allungo quello che secondo me sta dando forza all'euro dollaro sono sono stati tratta anche i dati macro come dicevamo anche all'inizio della puntata nonostante il sentiment tedesco abbia un pochettino deluso le aspettative però comunque possiamo vedere dal punto di vista tecnico almeno che l'euro dollaro ha un buon insomma essettato in modo tale da poter continuare la risalita almeno fino a quel target che abbiamo detto prima abbiamo capito quindi una strategia rialzista che vai a declinare a quali livelli allora livello di ingresso è 1,22 quindi insomma siamo vicini al livello di adesso livello di mercato stop loss 1,21 e un target a 1,23 e 5 proprio perché mi aspetto che possa raggiungere appunto i massimi di quest'anno